Ciao Vito, alla prossima! Pioggia, nebbia, non si vedeva... Siamo arrivati a casa... ...dia che ci andiamo con la macchina! Non scudono! Non sei capace! Adesso, per poco che metto sulla panchina! Un tante di ghisa! Lasciamolo qua! Che cazzo è successo! Ma adesso è andato di là! Andiamo! Ragazzi, andiamo! C'è traffico! C'è traffico! C'è traffico! C'è traffico! Ciao, ciao Sandro! Ciao! Venga vieni, no? Pessoa di cibo! La prima l'hai comprata! Zafre! 100.000 euro per la data! Pessito che sono le ultime! Sono le ultime! Sono le ultime! Sì! Non ho la finestra! No, non lo ho provato! Oggi non lo ho provato! Ciao, ciao! Ciao è l'Orr! Ciao! 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 Grazie a tutti.